Avanza il degrado in pieno centro storico a Sulmona. Una siringa è stata rivenuta questa mattina sulla scalinata del ponte Capograssi, da anni ormai simbolo, icona dell'inciviltà senza freni. Tuttavia la scoperta ha allarmato un gruppo di famiglie dal momento che il luogo è frequentato da diversi studenti che usano proprio la scalinata per spostarsi dal ponte alla circonvalazione orientale dove si trova la fermata del bus. Una bruttissima immagine, segno di uno scadimento di valori ma anche di un preoccupante fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio, commentano le famiglie che segnaleranno il caso ai carabinieri, alla polizia, soprattutto per chiedere l'aumento di controlli di mitigare un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio anche tra i più giovani, anzi si comincia dalla scuola media come ha messo in luce il report del CERTI, servizio delle dipendenze dell'Asla Vezzano-Sumona L'Aquila che annuncia un evento per la sensibilizzazione sul tema. Grazie a tutti.